di sacrificarsi anche per gli altri, per il bene del mondo, come ha fatto lui. Abbiate in voi, abbiamo in noi, quindi abbiamo gli stessi sentimenti di Gesù. Suono? Sì, suonate. Purtroppo non c'è il megafono perché cattolo l'ho lasciato. Lui l'ho lasciato? Se è stato in silenzio, si sente sicuro. Sì, sì. E poi è meglio nel silenzio, il megafono è troppo... Che fa bene, cattolo la salata. E' un punto, perché non c'è in silenzio, non c'è in silenzio, non c'è in silenzio. E' più... E' più capale. E' più capale. L'ho dimenticato, il prete è un megafono. Dove? Puoi le campane? E' più, se li metti in aria, eh. Sì, ma voi... Sì, ma voi... Sì, sai, c'è il zombo. La prossima volta facciamo il merito. Il capale che è il vento. Il video d'oro. Il capale che è la collezione. Grazie.